Lo vedevo molto fiducioso, adesso è un altro mio compagno, speriamo che vada bene. Lui scia con gli stessi sci invece da quando ha 7 anni, con grandi risultati. Christophe Nerofer. Molto motivato, adesso non l'abbiamo visto da in cima. Aia, fuori. Rinato, spigolato. Difficile correggersi, a meno che non tu sia Ligeti. Sì, vabbè, peccato anche per Nerofer che come obiettivo comunque aveva la qualificazione nei 30, parliamoci chiaro, il gigante. A parte l'Exploit a Sesteli era un gigante del tutto anomalo, settimo, diciamo che quando lui arriva nei 30. Speriamo che oggi comunque è un po' più fumo perché ricordiamo l'ultimo gigante che ha fatto ricoprire il mondo, è caduto, è andato su a scaletti e poi si è fatto male. Speriamo che oggi ragiona un po' meglio e non rischia topo. La gara sua è finita qua perché è risalito, adesso continua ma non si qualifica certamente per la seconda. Ecco l'errore, si è inclinato. Forse ha visto che ci sono un po' di scalini, ha toccato con lo scarpone come la Manuela ieri e subito sei via. Peccato, molto peccato. Forse è entrato un po' di taglio.